buonasera a tutti io mi chiamo alex vengo dal gambia sono poco nel mio paese sono poco anche quando arrivo in italia ho fatto il corso di cucina poi il corso di paniteria stasera ho cucinato maspotato altri si chiama c'è anche due bevande uno si chiama biscus l'altra si chiama bava anche c'è anche il quai sono molto contento sapranno del pure che avete mangiato il pasticcio di carne c'è la locandina si chiama la vicina di alex si è fatto catarina trovare la domicilio servizio catering per le 20 manifestazioni anche che c'è anche domicilio che lo siete dietro trovate sia la sua mail che il numero di telefono per per contattarla cantorina è comunque penso da che siamo c'è alla direzione potrete fortesemente prendere sapete avete un'opzione ganese per le vostre per i vostri 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 anche cosa ho preparato oggi ho cucinato special dall'africa gambia grazie